ma buongiorno e bentornati sul mio canale finalmente è un po che non ci vediamo sono tornato dalle ferie non vi sto a raccontare tutto ma qualche cosina sì che cosa la connessione e signori miei è stato un delirio sono andato a lampedusa ho portato avevo 5 sim poche parole avevo tutti i gestori quindi avevo per vodafone la poste mobile poi avevo cop voce per team veri mobile per win 3 avevo iliad per iliad e poi avevo anche la mia sim quella che uso quella di poste casa quella che sempre di delle poste quindi copertura vodafone insomma o sono stato un po sfigato nella zona ho avuto molti problemi però c'è molta problematica noto che almeno a lampedusa ragazzi e critica la situazione specialmente se andate nelle calette nelle carità ragazzi non prende assolutamente nulla potrebbe capitarvi per scappuzzo di aver fortuna se avete magari una copertura team quindi è quella con cop voce spostandomi un po qua e là ogni tanto anche iliad nelle calette è un po difficile poi magari sono stato sfortunato perché nel residence dove stavo e anche con il wifi nella camera dove dormivo lì non prendeva una mazza quindi avevo connessione zero dovevo andare di fuori c'erano 30 gradi non vi racconto umidità pazzesca però vabbè ho preso diciamo la settimana un po sfigatella perché ho preso lo sciroppo lo sciroppo hanno preso lo scirocco però la problematica era anche che mi sballava l'orario siccome che nel cellulare sapete c'è l'impostazione dell'orario quindi io ho l'impostazione automatica dell'orario mi trovo sempre un orario sballato c'è un'ora indietro quindi non riuscivamo mai a capire quando ce l'alzavamo se erano le sette le otto insomma dipendeva se ero nella mia camera erano le sette se andavo in cucina erano le otto quindi ho avuto un po di problemi di questo genere per il resto insomma niente problematiche insomma anche con tutti i gestori avere una connessione almeno in quella zona lì ma in questo video cosa parliamo andiamo a fare un aggiornamento quindi vi dirò le offerte le migliori offerte attuali dei vari gestori telefonici però lasciatemi salutare un amico perché sapete quando sono atterrato all'aeroporto e sapete quando uscite dall'aeroporto ci sono quegli omini magari col cartello con scritto il nome dell'albergo del residence insomma così e ci sono rimasto un po così perché non non ci avevo fatto caso ho beccato c'era un mio amico che era lì e non ci avevo fatto caso non ho fatto notare le mie figlie e c'era nascosto con un cartello così e allora vabbè era solo per per salutarlo e guarda non l'ho buttato via il cartello è ancora qui me lo sono tenuto perché è stata una cosa molto carina insomma mi è piaciuto molto grazie fabio benissimo adesso andiamo a vedere cosa c'è in questo momento siamo a metà settembre 2022 quali sono le migliori offerte attuali allora possiamo andare a vedere subito la prima cosa che è capitata di di adesso nel senso che è finita è scaduta l'offerta quella in 5g a 150 giga 999 sarebbe questa è tornata in poche parole quella da 120 gigabyte ok 120 giga sempre in 5g a 9 euro e 99 un'altra offerta interessante che c'è in questo momento è questa qui di fast web 50 giga in 5g questa qui a 5 euro e 95 molto molto interessante logicamente sapete che dovete avere un telefono supportato e deve essere anche ci deve essere anche la copertura nella vostra città quindi andate a spulciare un po il tutto fresca fresca la notizia fresca fresca la nuova offerta di china che vi dirò visto che io stavo provando ho provato copvoce qui a casa mia e sinceramente la copertura team faceva sempre schifo si può dire schifo senza senza offendere nessuno insomma insomma mi do ricredito perché qui sta andando veramente bene quindi io con la sim copvoce sta viaggiando parecchio facendo le prove un po sapete quegli speed test un po così da prendere con le pinzette viaggio 70 80 megabit al secondo qui dove facevo fatica arrivare a 23 megabit al secondo e invece questo va sta andando bene quindi china visto che anche china è sotto copertura team dovrebbe andare bene questo me lo confermo un amico che l'ha provato e sta vedendo insomma del delle migliorie anche da parte di china quindi team ha migliorato tantissimo almeno nella mia zona ha migliorato molto e l'offerta che c'è in questo momento di china è questa qui quella da 200 giga per i nuovi numeri per sempre a 9 euro e 99 poi il resto rimane così sempre c'è questa qui che anche questa è un'offerta buona da 100 giga per spendere poco 5 euro 99 però sappiamo che è importabilità attivazione sim e consegna è gratuita e poi le altre rimangono sempre lì 7 99 con 150 giga eccetera 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 insomma le altre rimangono lì sono molto interessante questa questa nuovissima offerta di china quindi 200 giga oppure anche quella per spendere pochino 5 euro e 99 100 giga insomma non è malaccio sotto copertura vodafone torna torna poste mobile e ritorna con quella creame wow 30 gigabyte 4 euro e 99 sono minuti sms e limitati c'è scritto esclusiva online poi c'è sempre la 300 giga a 8 euro e 99 invece di 9 99 qui sapete che c'è il costo delle chiamate gli sms sono a 18 centesimi può viaggiare fino a 4 g plus qui sapete non ci sono strassature io si può arrivare fino a 300 megabit al secondo in download quindi diciamo non c'è strassatura questa che non capisco che senso abbia c'è anche questa qui a 20 giga anche qui c'è scritto solo online a 4 euro e 99 con 20 giga ma se c'è questa qui la wow 30 e per avere dei giga in più siamo sui 9 euro e 99 con 150 gigabyte altra offertuccia che sta per scadere qui andrà a finire verso la fine eccolo qua offerta attivabile entro il 30 di settembre quindi mancano ancora 14 giorni è quella interessante da 200 giga a 7 euro e 90 questo è molto molto interessante vi ricordo che la potete fare anche attivare anche la e sim quindi questa offerta basta andare a selezionare vi faccio vedere se magari qualcuno gli fosse sfuggito cliccando gli sopra andate dove c'è l'offerta e la vedete qui qui costi di attivazione primo mese inclusa spedizione a casa qui preferisci chiedere una e sim ci cliccate sopra vedete che si attiva e poi fate o attiva e mantieni il mio numero oppure attiva un nuovo numero poi dopo andrete a compilare tutta la papardella della vostra documentazione altra tariffa di veri mobile non si scosta da quelle di prima sono sempre le stesse hanno aggiunto solo che c'è un buono regalo di amazon di 10 euro quindi per la portabilità se cambiate quindi il gestore se provenite da questi gestori qui i poste mobile bla 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 c'è un buono regalo qui però andate a leggere anche il regolamento solitamente cosa succede non ve lo danno subito adesso non sono stato a leggere il regolamento sinceramente perché se no se dovessi leggere tutte le regolamenti di tutte le cose farei note andate andateci a dare un'occhiata solitamente cosa fanno lo danno dopo la prima messa di tappi bisogna almeno rinnovare il primo mese ripeto non lo so andateci a dare un'occhiata poi siamo sempre insomma le tariffe sono sempre queste quelle di veri mobile di 30 giga 499 100 giga 699 vedete buono regalo amazon a 10 euro queste diciamo sono importabilità e di qua hanno tolto l'attivazione il costo di attivazione che qui prima era un euro e 99 adesso è sempre 50 150 200 giga rispettivamente con 5 99 7 99 8 99 e l'attivazione è gratuita è sempre lì l'offerta di o mobile la più interessante questa 200 giga a 9 euro e 99 per chi volesse provare una sim sotto copertura win 3 possibile attivare questa di eli mobile la easy è gratuita per il primo mese fino a 60 giga questa questa sim mi è diciamo io non l'ho rinnovata prima davano il doppio quindi attivando questa sim c'erano 50 giga però fino al 31 di agosto mi davano 100 giga logicamente è scaduta è scaduta oltre a essere scaduta la sim è scaduto anche il termine quindi il 31 8 in teoria doveva tornare 50 giga è arrivato un sms mi sembra una mail insomma una mail dove invece di darmi 50 giga mi hanno mi hanno detto guarda invece di dartene 50 te ne diamo 60 quindi poche parole l'hanno pareggiata con questa con questa offerta qui dei 60 giga ripeto primo mese gratuito quindi se lo volete provare fatelo se no una cosa interessante che diciamo se se è così insomma se è realmente giga illimitati c'è questa da 9 euro e 99 gigabyte illimitati per tutto l'anno poi 120 giga per tutto l'anno vuol dire fino al non glielo scrivono perché potevano scrivere invece di per tutto l'anno fino al 31 31 12 sarebbe stato meglio e si capiva anche meglio comunque e fino a fine anno giga illimitati poi se ci sono le medie sapete no che non sono limitati questo non lo so lasciatelo nei commenti se qualcuno di voi l'ha provato se ha avuto qualche problema con questa offerta da giga illimitati 9 99 di e li mobile altre cose però diciamo che la più interessante la migliore offerta attuale in questo momento è quella di nt mobile e cioè questa però queste sono tariffe annuali quindi la più 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 è un prezzo annuale quindi due euro alla fine si andrebbe a pagare due euro e 49 totale sono 29 94 oppure c'è quella semestrale 349 oppure quella mensile come vedete quella per 30 giga 4 euro e 99 diciamo è simile è uguale identica a quella di poste mobile nt mobile vi ricordo che è sotto copertura vodafone però ripeto visto che mi iscrivete in tanti di questa nt mobile in molti mi avete fatto tante domande sì io ce l'ho per la figlia va bene non ha non ha problematiche insomma è una copertura vodafone nella mia zona funziona bene ma non ha tantissime cose insomma se non avete tante pretese può andar bene non ha il per adesso non ha il volt non ha l'hot spot non ha l'hot spot quindi se volete condividere la vostra connessione quindi volete dare connessione al vostro tale con questo con questo gestore non riuscite a farlo almeno per il momento quindi per fare la classica telefonatina mandare sms va benissimo se cercate un qualcosa è ragazzi sono due euro e 49 al mese ed hanno 30 g insomma non si può avere tutto in più non ha neanche un app dedicata e quindi sappiate è proprio nude e cruda così senza pretese è una buonissima offerta poi per finire per rovinarvi un po la giornata vi vi faccio vedere anche questa me non non mi è mai piaciuto però dico è una mia opinione perché mano qual è il motivo per perché non mi piace questo gestore cioè rabona perché si complica la vita c'è una roba a 10 ma non intanto la 10 mila tariffe a parte il prezzo per l'attivazione che è molto alto anche se ha un bonus vabbè che si può scalare ma non con offerta consumo va bene però ci andiamo a complicare la vita in questo modo queste sono tutte le offerte che hanno adesso c'è questa si chiama rovesciata con 250 giga a 9 euro e 99 ma per chi passa da un altro operatore poi c'è la 200 giga sempre minuti sms limitati ma 799 che per chi passa da wind veri kena e omobile 899 per chi passa da altro operatore e poi la 171 giga 899 per chi passa l'operatore insomma c'ha tutte queste super mega offerte quello che volete però cioè dipende sempre da dove provenite insomma se sei biondo se sei moro se sei alto se sei basso quindi faranno anche quelle tariffe quindi se sei più alto più di 1 80 allora ti diamo questa tariffa se sei più basso allora c'è quest'altro insomma alla fine circa è così e io mi domando ma perché dobbiamo complicarci la vita dipende da dove vieni dove non vieni anzi ci sono anche delle tariffe sotto ce ne sono anche altre che non finiscono l'importante ecco ad esempio questa qui ok ti do 120 giga ma escluso vodafone quindi se te proviene da volvo se proviene da volvo no non ti posso fare questa tariffa quindi dipende sempre come ho già detto se sei alto se sei biondo se sei moro ma e bla 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 va bene ragazzoli io direi che con questo è tutto grazie per essere stati qui fino alla fine del video queste sono le migliori offerte secondo il mio punto di vista attuali quindi a settembre noi ci vediamo in un prossimo video il solito saluto ai nuovi vecchi iscritti e il solito abbraccio che mi vuol bene ciao ciao da tito ciao 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 Grazie a tutti.